Lo so sono sparita, vi spiego tutto in questo vlog che sto girando da febbraio perché raga mi trasferisco, è ufficiale, trasloco, quindi mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e promesso che vi spiego tutto e risponderò a tutte le domande. Let's go! Cominciamo chiarendo subito un dubbio ambletico, la domanda che tutti mi fanno, ma quindi ti trasferisci definitivamente in California e ti sposi? No ad entrambe, per il momento, non è nei nostri programmi. In che senso? Allora, fin dal 2019 il programma era sempre lo stesso, poi è arrivata la fine del mondo e quindi abbiamo dovuto mettere in pausa il programma. Qual era questo programma? Il programma era di diventare nomadi digitali. Sia io che il mio compagno lavoriamo online, quindi non abbiamo problemi a viaggiare, o meglio abbiamo meno problemi di altre persone a viaggiare. Ovviamente il mio compagno adesso ha la casa a Santa Cruz, vi metto i link se volete andare a vedere le descrizioni della casa di Santa Cruz e quindi è un po' più stazionario, diciamo così, però io sono sempre stata in affitto qui e quindi il mio contratto sta scadendo e quindi è la volta buona che diventerò nomade digitale. Sì, andrò in California per i soliti due mesi e mezzo, tre mesi, se mi lasciano entrare, ma quello ce lo racconteremo poi quando sarà il momento e quindi farò questi tre mesi questa estate e poi viaggerò. Per il momento sposto la residenza a casa dei miei qui in Italia e quindi poi non lo so, pensavo Spagna, pensavo Grecia, eccetera, eccetera, ma si vedrà. Per quanto riguarda il ti sposi, no, perché se avete mai visto 90 Days Fiance, che sarebbe 90 giorni per innamorarsi, reality show, sapete bene che è un procedimento non semplicissimo quello di sposarsi. Comunque non è che ce l'abbiamo neanche nei programmi, sarebbe solo un modo per me di entrare più facilmente negli Stati Uniti e per lui di entrare più facilmente in Europa, però in realtà al di là dell'aspetto pratico non è che abbiamo questa intenzione e anche perché appunto la procedura per il visto da fidanzati si è anche molto allungata come tempistica durante il covid, per cui il modo in cui funziona è che tu richiedi quel visto per fidanzati, per avere quei 90 giorni famosi, 3 mesi per andare negli Stati Uniti e sposarti, e però i tempi per elaborare questo visto si sono allungati tantissimo, ho sentito gente che ha aspettato un anno prima di avere questo visto e questo vuol dire che io non potrei entrare negli Stati Uniti finché non fanno questa procedura, per cui raga lasciamo tutto come è, vado come turista, andremo anche al Comic-Con a San Diego, quindi va bene così, non c'è nessuna fretta. E a proposito di eventi, cose, avvenimenti, adesso andiamo a vedere un vlog che ho registrato qualche tempo fa delle agende di questi sei anni che ho trascorso in questa casa. Oggi primo vlog di questa serie, che secondo me durerà fino a giugno finché non vado via da questa casa, perché, ma forse ve l'ho già spiegato nell'intro, comunque diventerò nomade digitale, nei prossimi mesi vi spiegherò cosa vuol dire questo, ma il punto principale è che dovrò lasciare questa casa dove abito da sei anni, che è abbastanza. E quindi oggi ho pensato di cominciare da le agende e i planner, perché io che non butto via niente, ho le agende dal 2016 in poi, che dici, ma perché te le tieni? Ma perché non si sa mai? Magari ho scritto qualcosa di importante, oppure qualche bel ricordo. Dal 2019 tengo un diario che adesso ho digitalizzato tutto nel telefono tramite app, però soprattutto gli anni precedenti non so se magari ho scritto qualcosa di indispensabile in queste agende. Per cui prima di buttarle le sfoglierò tutte quante, magari condividerò se c'è qualche ricordo particolare con voi. Vediamo! Allora, una cosa che ricorre intanto in questa del 2016 è che per almeno tutto il mese di gennaio avevo preso appunti su cosa, sui pasti praticamente, su dove avrei mangiato e cosa avrei mangiato, perché oggettivamente quella è una delle prime cose, quando ti trasferisci in una casa nuova a organizzare di fare le spese, cosa mangiare, quando cucinare, eccetera. Quindi ecco, già quello è una cosa che però ovviamente non è che mi terrò nel diario probabilmente, ma vediamo, vediamo se voglio digitalizzarla. Sempre qua, sempre sul 2016, sarà un processo molto lungo, mi sa. Mi sono stupita di quante volte riuscissi a pranzare qua a casa, cioè io non mi ricordavo più sta cosa, cioè quando lavoravo in presenza e quindi dovevo prendere la bici o prendere il tram per andare a lavoro. Cioè io non sono più abituata a questa cosa, pazzesco, cioè quanto bene si sta a non dover prendere mezzi, a non avere orari per cui devi essere in un posto, in un'aula a una certa ora, quanto bene vanno a insegnare online, mamma mia che lusso. 2016 fatto, tra l'altro è stata l'ultima volta, cioè la volta più recente in cui sono stata a New York e anche a Toronto, quindi ricordi di queste due città bellissime. E basta, quindi ho fatto qualche foto e adesso passo al 2017. Comunque fa stranissimo, al di là del fatto di avere pagine intere bianche, perché giustamente dici se stavo viaggiando non mi portavo l'agenda dietro, giusto. E fa stranissimo, dico, con gli occhi di adesso di due anni di pandemia, vedere che nel 2017, dunque, il mio ragazzo era qui in vacanza a Venezia quando ci siamo conosciuti. Io, un mese e mezzo dopo, sono andata in California da lui per due settimane. A ottobre sono andata di nuovo in California e poi siamo andati insieme a Chicago. A novembre è venuto lui qui e poi siamo andati insieme a Monaco per qualche giorno e poi è rimasto qui e poi è tornato in California. Cioè, la quantità di viaggi che facevamo così, proprio alla leggera, prima della pandemia, è una cosa che mi sconvolge, anche perché adesso, non lo so, sarei un po' sopraffatta quasi dal prendere e viaggiare. Dovrò abituarmi all'idea perché se sono una nomade digitale, ma ho ancora qualche mese quando filmo questo e quindi mi abituerò all'idea nel frattempo. Allora, sono a metà 2017 e vedi perché io sono fissata con il ricordare le cose, scrivere i diari, eccetera, eccetera, un po' perché prendo da mio papà, ma vabbè. Ma soprattutto perché se io penso al 2017, per me è l'anno in cui ho conosciuto il mio ragazzo. Però c'è tutta una metà anno prima di conoscere il mio ragazzo, di cui mi ero assolutamente dimenticata, cioè il fatto che, per esempio, avessi provato a correre. Che tenerezza! Pensando che potesse essere uno sport per me, non lo è, spoiler alert. E il fatto che, così, provando a correre, però mi sono finalmente resa conto che c'era qualcosa che non andava e ho, a suo tempo, scoperto di essere asmatica, per esempio. E poi il fatto che fosse il primo anno in cui il gruppo di studenti canadesi che so che guardano i miei video, quindi ciao, ciao, sono venuti in vacanza studio qui in Italia e quindi quello è stato il primo anno in cui ho organizzato la loro vacanza studio con il corso d'italiano, eccetera. E l'anno dopo, io non vedo l'ora di vedere la gente l'anno dopo perché è stato un delirio quel viaggio, però ho dei ricordi fantastici di quel viaggio, veramente. E un'altra cosa che ho notato è la totale assenza di qualunque riferimento al mio ragazzo nei giorni in cui so di averlo conosciuto. Per cui, per scaramanzia probabilmente, ho detto no, non scrivo niente nella mia agenda, nel mio diario. E quindi sì, non ho alcunché da digitalizzare in quei giorni. Mamma, che ricordi! Ricordi sbloccati solo dal fatto che ho scritto che ero a Venezia, centro storico, per il mio compleanno a febbraio 2018 e mi ha sbloccato i ricordi perché quell'anno ero con il mio ragazzo che era ancora qui per quel mese e abbiamo nolleggiato gli abiti, i costumi proprio tipici veneziani per il carnevale e abbiamo fatto questo weekend di carnevale tradizionale veneziano, una cosa da sogno. Io giuro, era fin da bambina che sognavo di fare il carnevale tipico veneziano e ce l'ho fatta con il mio ragazzo, abbiamo fatto tantissime foto bellissime e ho dei ricordi pazzeschi di quel weekend, bello, bello, bello. Per non parlare ovviamente della vacanza a Mykonos che abbiamo fatto una settimana con il mio ragazzo che abbiamo fatto quell'anno e bellissime, bellissime le isole greche, quelle sono una destinazione molto probabile dei miei viaggi futuri. Ma poi scusate, vogliamo parlare dei concerti, cioè, avevo rimosso. Ho passato quello che ho visto a novembre 2017 di Brian Adams. Adesso mi è sbloccato un nuovo ricordo, zucchero, in piazza San Marco a Venezia. Fantastico! E poi credo arriverà presto lo stesso anno, giovanotti. Cioè, noi adesso abbiamo il biglietto per andare a vedere i maneskin all'Arena di Verona. Quando uscirà questo vlog, saprò già se siamo andati oppure no, perché non sappiamo ancora se ci fidiamo ad aprile 2022. Questa è la mia faccia, sempre stravolta dal numero di viaggi che facevo prima della pandemia. Ho trovato un volo per Londra, un weekend 2018, o mi ricordassi perché sono andata a Londra quel weekend. Non che serva una ragione per andare a Londra, però così, debotto, senza senso. Ma comunque, sì, ho fatto parecchi viaggi prima della pandemia. Appena finito di dire dei concerti, non ci credo. Cioè, ero completamente dimenticata. Siamo anche andati ad Asti, Asti, per il weekend a vedere le vibrazioni. Ci ho, boh, sconvolta. Ma quanti concerti guardavamo? E sono arrivata a quello che vi anticipavo prima, cioè il viaggio con la vacanza studio con il gruppo di studenti canadesi, che saluto di nuovo. Ciao! E praticamente loro sono venuti qui per due settimane, in cui alla mattina io insegnavo l'italiano, facevo il corso di italiano. E poi al pomeriggio organizzavamo delle gite. A parte il lavoro mastodontico di organizzare tutte le gite, tutti i biglietti, eccetera. Ma la prima settimana ero io la responsabile delle gite e quindi le ho accompagnati a Vicenza, le ho accompagnati a Bologna, le ho accompagnati a Sirmione, dove ci siamo persi. Una cosa tragica. E la seconda settimana, in teoria, non era più corso di italiano, ma era proprio gita a Napoli. Solo che, in teoria, dovevano andare con una collega napoletana, la quale si è ammalata pochi giorni prima della partenza, quindi nel panico più totale le ho accompagnati io, pur non essendoci mai stata. Un'avventura. Cioè, abbiamo scoperto Napoli insieme, praticamente, in quei giorni. Siamo stati anche a Capri. Siamo stati... dove siamo stati? Siamo andati a visitare Pompei. Cioè, una cosa fantastica, però un'avventura, veramente, una cosa dietro l'altra. Tutto quello che poteva capitare tra borseggiatori, infortuni, tragedie, cioè tutto, tutto, tutto quello che poteva capitare è capitato e ci ha lasciato dei bellissimi ricordi, però, molto, molto intensi. No, vabbè, aggiungiamolo alle cose che avevo completamente rimosso. Giustamente, settembre 2018, altro viaggio, sono andata in California a girare il primo dei miei corsi LinkedIn Learning. E quindi c'è anche quel viaggio da aggiungere. E poi, così, debotto, senza senso, anche qua, Roma. Sono stata, evidentemente, un weekend, una giornata a Roma a far cosa. Non mi ricordo, non lo so. Però sono stata a Roma, ok. E un weekend a Parigi, non te lo vuoi fare. Abbiamo fatto anche quello. E poi, a dicembre 2018, sono andata di nuovo in California a girare il secondo dei miei corsi LinkedIn Learning. Quindi, un anno sempre in viaggio, praticamente, in confronto a questi ultimi due anni. E quindi non mi resta che passare al prossimo planner 2019, che, tra l'altro, è il primo dei planner. Erin Condren, che mi ha regalato il mio ragazzo a Natale e che gli ho proibito di regalarmi in futuro, perché è troppa carta. Occupano troppo spazio, anche se li adoro. Però, davvero, non so più dove metterli. Allora, a parte il fatto che Ele, la mia co-host del podcast... Ciao, Ele! È una presenza costante in queste agende, perché, come sapete, era una mia studentessa e quindi ce l'ho segnata regolarmente ogni settimana. e qua ricominciamo anche nel 2019 col botto, perché c'è il mio viaggio in California, però con una piccola tappa, che era New Orleans, perché il mio ragazzo era lì per una conferenza, quindi vuoi non visitare New Orleans. però il problema è che, praticamente, il volo è durato circa 40 ore, perché ho fatto... Beh, l'andata non era neanche male, nel senso Venezia-Amsterdam, Amsterdam-Houston, Houston-New Orleans. Insomma, neanche male, fino a un certo punto. Però poi, una volta visitata New Orleans, siamo andati da New Orleans a Los Angeles. Quindi, per il ritorno, non potendo fare una tratta diversa, ho dovuto fare Los Angeles-New Orleans-New Orleans-Houston-Houston, Houston-Dove-Amsterdam-Amsterdam-Venezia, per cui ho fatto il viaggio della speranza per tornare indietro, però mi sono fatta convincere, quella volta, a restare a dormire una notte in hotel, fuori dall'aeroporto, invece che dormire in aeroporto. Fine, ok. Ormai non ho più l'età per dormire negli aeroporti, dai, diciamocelo. Quindi, bei ricordi anche lì. Per la serie, i viaggi continuano. All'insegna dell'acqua. Siamo andati a fare rafting. Sì, ho anch'io fatto rafting. Saluto. Ciao! I miei amici, anzi, una studentessa mia che mi ha coinvolto in questa attività e, tra l'altro, facendo campeggio, cioè proprio con la tenda all'avventura. Quindi sono pronta a tutto adesso. Poi, vuoi farti mancare una vogalonga? Ecco, in quel caso io non ho vogato, ma ho sostenuto, soprattutto correndo da una parte all'altra della città, il mio ragazzo, Nick, che fa kayak e quindi stava kayakando per i canali di Venezia. Poi, vuoi farti mancare un concerto di Little Steven a Milano? Assolutamente no. Tra l'altro, gratuito, perché ci sono delle agevolazioni per gli insegnanti, perché Little Steven, che è mitico, ha questa fondazione per sostenere economicamente gli insegnanti. Ti vogliamo bene. E poi mi ero completamente dimenticata di Flycube. Cioè, pure Flycube, capito? Che cos'è Flycube? Flycube è Noad. È un bellissimo sito che spero di utilizzare al più presto che organizza viaggi a sorpresa. Quindi tu scegli di solito il weekend o comunque tre giorni, quattro giorni in cui puoi viaggiare e loro ti comunicano tipo il giorno prima dove andrai la tua destinazione e con le informazioni sul volo, sulla destinazione, tutto prenotato, sia volo che alloggio. Quindi tu devi solo presentarti in aeroporto praticamente a partire. Noi siamo stati a Berlino con Flycube qui in giugno, era giugno del 2019. No, secondo me siamo stati prima a Berlino ed era a marzo-aprile del 2019. E invece in estate siamo stati a Catania sempre con Flycube e perciò merita, merita tanto soprattutto se non avete idea di dove andare in vacanza per un weekend dite ma facciamoci sorprendere e quindi è molto consigliato sperando di poter viaggiare al più presto. Io chiederò a Ele se posso mettere questo piccolo dettaglio del mio vlog ma ho trovato mamma la commozione ho trovato l'appunto del giorno in cui ho fatto l'orale della maturità 2019 e quest'anno andrò a vederla che sci laurea cioè non ci rendiamo conto mamma mia come vuole il tempo e tra l'altro ho ancora la tazza che mi ha regalato che è in assoluto la mia preferita ciao Ele sempre la mia co-host del podcast per contesto ma qua con l'estate 2019 scivola nel senso che intanto ho il concerto di Liga Bue allo Stadio Olimpico di Torino cioè noi prendevamo veramente andavamo dappertutto in Piemonte soprattutto per i concerti e poi siamo partiti per Londra in quell'estate e mi ha sorpreso il mio ragazzo con i biglietti per andare a vedere lo spettacolo di Harry Potter e The Cursed Child a teatro fantastico insieme ad altri spettacoli di teatro che abbiamo visto quell'estate mamma mia che ricordi vabbè l'estate del 2019 in California non la riassumiamo neanche perché ho cominciato la mia attività di literature coach quindi di insegnante online è stata un turbinio di tutte le emozioni possibili immaginabili siamo stati al Comic Con a San Diego siamo stati a Portland a trovare i nostri amici a visitare Seattle è stata una cosa incredibile abbiamo visto le Heart Collective Soul e chi altro appena letto ovviamente The Southside Johnny and the Asbury Jukes con ospite speciale Richie Sambora se siete fan dei Bon Jovi una roba grande e quindi è stata veramente un cambio di vita di prospettiva totale nell'arco di un'estate con lo shock anafilattico di cui ho parlato su TikTok causato da una puntura d'ape probabilmente e però wow quanti ricordi e adesso sono verso la fine del 2019 dai che ce la facciamo entro oggi a finire tutte le agende dai come prevedevo il 2020 è stato molto rapido un po' perché avevo già cominciato a scrivere il diario a parte quindi non ci sono grandi note o appunti di rilievo ma soprattutto perché è stato il 2020 non mi aspetto che il 2021 sia molto più più affollato di grandi idee grandi spunti nell'agenda quindi dovrei finire tra poco come previsto il 2021 non ha riservato grosse sorprese mi ricordavo più o meno tutto ma per fortuna dai era l'altro anno e c'erano solo appunto dei cuoricini vari il giorno che il mio ragazzo finalmente è arrivato in Italia dopo 515 giorni che non ci siamo visti a causa della pandemia e a parte quello devo dire che è catartico e dà molta soddisfazione il fatto di strappare le pagine per poi buttare via le agende vecchie quindi agende fatte forse domani mi lancio nello scrapbooking ma non lo so devo vedere se mi sveglio dell'umore giusto che dire tanti ricordi in queste agende non vedo l'ora di farne di nuovi fuori da questa casa e abbiamo tra l'altro nel frattempo aperto il canale youtube di coppia con il mio compagno quindi andate a vedere Nomad Citello vi metto sempre i link in descrizione nei commenti eccetera e non siamo andati ai concerti di cui avevamo i biglietti purtroppo perché comunque la situazione ci sembrava sempre troppo incerta a livello di covid soprattutto per i voli per lui che sarebbe dovuto volare qui adesso non è che la situazione ci faccia impazzire però vabbè ce la mettiamo via e ci proviamo perché altrimenti sto nomadismo digitale non sa da fare in cosa consiste il nomadismo digitale in pratica consiste nel lavorare da remoto completamente quindi lavorare online e viaggiare e vivere in diversi paesi in giro per il mondo lavorando appunto da remoto può funzionare in modi diversi per ciascuno ciascun nomade digitale perché comunque c'è chi lavora per un'azienda e può essere mandato all'estero c'è come il mio compagno che lavora per la big tech quindi per microsoft e può chiedere il permesso di lavorare dall'estero in alcuni mesi dell'anno loro per esempio hanno dei limiti proprio a livello fiscale per cui lui non può stare più di due tre mesi alla volta fuori degli Stati Uniti io per esempio ho partita iva italiana che uno mi dice ma chi te lo fa fare in realtà il discorso è questo allora io mantenendo la residenza in Italia perché comunque la mantengo dai miei genitori e comunque farò tappa dai miei genitori tra un viaggio e l'altro sono autorizzata praticamente a lavorare dove voglio per lo Stato Italiano in realtà il problema si pone per gli Stati esteri nel senso che io tecnicamente anche adesso quando andrò in California per la legge americana io non posso lavorare lì perché ho un visto turistico non importa che lavorerò con clienti italiani non importa che fatturerò tutto in Italia per loro questa cosa non è non è fattibile il problema è che negli Stati Uniti ma come in quasi tutti gli altri paesi è molto raro avere dei visti che ti permettano di di lavorare come nomade digitale per cui tante volte i nomadi digitali si ritrovano in un'area grigia per cui sì per lo Stato Italiano sei a posto però se ti beccano a lavorare nello Stato Estero poi devi pagare un'enormità di tasse locali eccetera eccetera perché secondo loro tu stai producendo reddito lì ci sarebbe da discutere su questo però insomma ci si arrangia si cerca di di essere discreti ecco per quanto riguarda la partita IVA perché non non sposto la mia posizione la mia residenza in un posto più conveniente e il motivo è molto semplice cioè non è così immediato aprire una posizione lavorativa ovunque nel senso che come minimo devi avere un indirizzo una residenza un conto in banca tutte formalità burocratiche per cui ma chi me lo fa fare cioè anche anche fosse un paese europeo semplicemente comunque dovrei andare a vedere le procedure burocratiche cose che francamente se si tratta di un paese in cui comunque non ho particolarmente legami o voglia di andarci ad abitare ma chi me lo fa fare di fare tutto sto casino quando posso tenermi la partita IVA in Italia sì ok le tasse saranno saranno alte neanche più di tanto devo dire perché con i regimi agevolati sono anche gestibili però è molto meglio stare in un regime in cui ho pratica conosco e comunque riesco a gestirmi piuttosto che andare a cercare paradisi fiscali o whatnot ci ho detto no sto parlando anche troppo questo vlog durerà tantissimo ma ve lo divido in capitoli promesso giuri in giurello andiamo a vedere il vlog che ho girato a proposito degli scrapbook sapete cosa sono? lo scopriamo insieme eccoci qua per la fase dedicata allo scrapbooking cosa vuol dire scrapbooking? allora scrap paper sono i ritagli di carta praticamente e quindi gli scrapbooks questo è uno dei tre che ho sono non so vi ricordate quando avevamo il diario al liceo soprattutto in cui mettevamo tutti i pezzettini di carta i ritagli i biglietti dei concerti a cui eravamo andati ecco quella è l'idea praticamente è un libro dei ricordi in cui metti foto io non ne metto di foto per esempio metto biglietti dei concerti biglietti dei viaggi ricordi scontrini dei posti dove sono andata a mangiare nei miei viaggi cose così per avere un ricordo di tutto praticamente e appunto come dicevo questo è il terzo che sto completando e però in uno sforzo di digitalizzare il più possibile come ho fatto con le agende finirò questo album non mancano tante pagine e e poi basta cioè digitalizzerò tutto quanto d'ora in poi e però sono a buon punto perché sono arrivata alla fine del 2018 in quest'album non me lo aspettavo credevo di essere molto più indietro e quindi non mi resta che raccogliere tutti i ricordi che ho commesso da parte in questi anni e aggiungerli al mio album see you later direi che ha raggiunto delle dimensioni delle dimensioni considerevoli in questo album e però ho dovuto appunto incollare tutto mantenendolo nelle cartelline trasparenti perché altrimenti non ci stava pagina per pagina tutto quello che volevo farci stare e soprattutto ho tenuto come faccio spesso i giornali locali quando viaggio mi piace prendere una copia dei giornali gratuiti soprattutto per per vedere quali sono i titoli le notizie più interessanti del periodo eccetera c'è molto Trump in questo periodo e poi ci sono stati ok momenti di commozione tra lettere dei miei ex studenti ciao Francesca e purtroppo tutti i ritagli di giornale su Federico il nostro amico che è scomparso un bacione a Elena e un abbraccio e niente e quindi adesso cercherò in qualche modo di infilarlo in uno scatolone con gli altri scrapbook e anche questa fase è andata yeah mamma mia raga quanto più vuota è casa mia da da quando ho girato questi vlog assurdo in ogni caso sono in ansia per questo trasloco per questo cambio di vita no no pochissimo sì ovviamente sono in ansia un'ansia positiva c'è questa parola che hanno coniato non mi ricordo se è Brené Brown o Glennon Doyle che ha creato la parola skited cioè scared and excited cioè questa paura ed emozione insieme che sono però anche positiva no e è un cambiamento che mi ci voleva che ho aspettato sono ormai tre anni che aspetto di fare questo cambiamento drastico e ciò non vuol dire che non sia decisamente in ansia anche perché appunto la mia prima tappa essendo negli Stati Uniti tutto bene negli Stati Uniti non mi pare arrivano continuano ad arrivare notizie deprimenti dello Stato sociale soprattutto agli Stati Uniti e sì it's pretty bad devo dire perché comunque adesso senza entrare in grandi analisi socio-politiche però una cosa fatemela dire fondamentalmente i quattro anni di Trump hanno posto le basi per tutto quello che vedremo da qui a non so quando perché comunque Trump occhi per lui ha praticamente invaso tipo metastasi tutte le posizioni legali politiche eccetera a livello locale quindi lui ha nominato giudici ma non solo quelli della Corte Suprema ma anche giudici minori fedelissimi in posizioni strategiche eccetera per cui adesso tutto quello che vediamo di leggi contro l'aborto di sparatorie di estremisti tutto quello che sta montando come conseguenza è tutto a partire proprio dalla presidenza di Trump con Biden che può fare poco o niente perché che se ne dica lui non ha la maggioranza fondamentalmente cioè ce l'ha alla camera ma al senato sono 50 e 50 giusti giusti democratici e repubblicani e almeno due dei democratici votano molto spesso coi repubblicani quindi riforme positive raga non ne arriveranno a novembre ci sono le elezioni del midterm e io vedo in arrivo una debacle totale per i democratici quindi la vedo brutta 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 la situazione negli states quindi dimmi perché ci vai diciamo che la California ancora si salva in questo panorama tragico e quindi speriamo che la luce in fondo al tunnel prima o poi arrivi ecco però no gli stati uniti non stanno affatto bene raga proprio mettiamocela via detto questo un ultimo vlog dal passato questa volta con gli ultimi libri che ho che ho abbandonato da da questa casa proseguo con scatole scatoloni svuotare tutto il possibile nell'appartamento e adesso sono in fase di svuotamento libri quindi siccome una mia studentessa mi ha chiesto consigli su thriller belli da leggere ho colto l'occasione e le manderò tutti i libri che ho di Linwood Barclay autore canadese che vi consiglio tantissimo ma dovrò scrivere le dediche perché li volevo la dedica e poi porterò dai miei questo libro che è stato trovato tra le cose di mia nonna ed è un libro di ricette di Pellegrino Artusi per la prima volta pubblicato se non sbaglio nel 1800 e qualcosa 1891 ed è interessante perché vi voglio leggere certe cose che vengono proprio scritte che sono assurde per esempio tritacarne definizione perché c'è una pagina di vocabolario perché giustamente magari non si sa ho adottato anch'io nella mia cucina questo strumento che risparmia la fatica di tritare col coltello e pestarne il bortaio la carne giustamente grazie di di avercelo detto e poi per quanto riguarda le ricette vere e proprie ecco come farci mancare un bel risotto con i ranocchi youtube mi cancellerà il video dopo questa non vi dico la ricetta perché veramente vengo bannata a vita ma mi raccomando l'acqua bella calda circa 12 ranocchi per risotto oddio mio aiuto cioè credo che parli proprio di ranocchi ahimè e quindi si è andata così ci sono i sandwich senza la es finale solo con la s finale bellissimo perché poi ci sono anche i diametri di alcune cose questo è il diametro dei graffen una tedescheria cito testualmente oh mio dio ci sono ricette di piccioni di tutti i tipi che non dovrebbe farmi così orrore perché voglio dire mangiamo il pollo mangiamo la quaglia cioè cosa cambia però non lo so mi fa mi fa un certo che vederlo scritto oh 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 due alla california sì praticamente è un rosso di manzo interessante il titolo di arrosto morto come sono gli altri arrosti in questo libro non non lo scopriamo meglio no vabbè c'è l'aggiunta l'appendice si dice appendice o appendice non mi ricordo mai cucina per gli stomachi deboli wow cioè è la fiera del passivo aggressivo attenzione ora si sente spesso parlare della cucina per gli stomachi deboli la quale pare sia venuta di moda bisognerà quindi dirne due parole senza pretendere coi miei precetti né di rinforzare né di appagare questi stomachi di carta cioè calmo eh ragazzo ok nonostante non sia facile praticamente mi studierò indicare quei cibi che a mio parere più convengono ad uno stomaco fiacco e di non facile digestione fantastico cioè vedi come sono cambiate le cose dal 1891 e partendomi dal primo ed unico alimento che la natura somministra ai mammiferi appena nati il latte ritengo che di questo potete usare ed abusare a piacere se non vi produce disturbi gastrici scusa stai dando consigli per la digestione e dici cioè bevete quanto latte volete a meno che non vi dia disturbi grazie ma allora è tutto mangia tutto quello che vuoi basta che non ti dia disturbi cioè cosa vuol dire il brodo più confacente è quello di pollo di castrato e di vitella attenzione mi raccomando la masticazione deve essere fatta accuratamente meglio pranzare a mezzogiorno al tocco perché vi dà campo di farci sopra una passeggiata e un sonnellino in estate e qua siamo nel campo dell'alimentazione intuitiva attenzione veramente non si dovrebbe ricorrere al cibo se non quando lo stomaco chiede con insistenza soccorso il che si ottiene più specialmente con l'esercizio del corpo perché questa e la temperanza sono i due perni sui quali sta la salute avanti bellissimo nel 1891 e qua fa tutto l'elenco riguardante il libro di ricette su quali piatti fare riferimento per gli stomaci deboli cioè veramente pagine pagine per ogni capitolo poi ci sono le ricette per le feste per ciascuna festa colazione alla forchetta non so che cosa si intenda per le colazioni alla forchetta perché poi si distinguono dalle note di pranzi che sono quelle appunto che mette per ogni per ogni festa che cosa cucinare praticamente ma io volevo trovare dove parla delle melanzane perché merita no vabbè il couscous con la finale couscous l'introduzione signore che vi dilettate alla cucina non mettete questo fritto nel dimenticatoio perché piacerà ai vostri sposi e per gli ingredienti che contiene forse sarete da essi rimeritate what now comunque il fritto della garisenda per interessarvi ho trovato trovato petonciani titolo il petonciano petonciano non so l'accento o melanzana è un ortaggio da non disprezzarsi per la ragione che non è né ventoso né indigesto si presta molto bene ai contorni ed anche mangiato solo come piatto d'erbaggi è tutt'altro che sgradevole sono da preferirsi i petonciani piccoli e di mezzana grandezza nel timore che i grossi non siano amari per troppa maturazione petonciani e finocchi 40 anni or sono si vedevano appena sul mercato di firenze ok quindi stiamo parlando degli anni metà dell'ottocento rarissimi i petonciani e i finocchi vi erano tenuti a vile come cibo da ebrei no ma vogliamo metterci un po' di antisemitismo così che ci avanza i quali dimostrerebbero in questo come in altre cose di maggior rilievo che hanno sempre avuto buon naso più dei cristiani ma vai Artusi vai tagliela i petonciani fritti possono servire di contorno un piatto di pesce fritto leggerezza proprio fatti in umido all'esso in gratella alla bistecca credo che voglia dire sulla griglia alle bracciole di vitella di latte o a un arrosto qualunque vedi i petonciani hanno un loro perché poi c'è la ricetta per i petonciani fritti quelli in umido e quelli in gratella tortino di petonciani e basta poi passa ai cardoni che non è che adesso fingerò di sapere cosa siano i cardoni anche se li ho già sentiti quindi cioè è bellissimo questo libro perché proprio ti dà una finestra su un mondo che era completamente diverso bene ci ho detto adesso mi metterò a scrivere le dediche e e imbussare i cinque libri che manderò la mia studentessa e nel frattempo ascolterò un podcast true crime perché ovvio quindi vediamo quale sarà la prossima tappa del mio trasloco raga era era l'ultimo vlog almeno di quelli che ho girato finora adesso vi metterò poi dopo quest'altro quindi non andate via vi metterò le ultime immagini del degli ultimi giorni di trasloco quando smonterò la tv quindi non avrò più un appoggio per il mio telefono per fare questi vlog e e niente wow ci siamo ovviamente arriveranno vlog dalla California dal Comic Con dalla Virginia dove dovremmo andare in agosto e quindi stay tuned mettete mi piace al video se non l'avete fatto iscrivetevi al canale rimanete connessi per vedere i vlog degli ultimi giorni e pronti per questa nuova avventura insieme see you later ciao 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 ciao